Incontro questa mattina presso il fiume Testene per fare il punto della situazione sull'attività svolta dall'Associazione Genesi dell'Ambiente presieduta da Gerardo Scotti. L'incontro di stamane è stata anche l'occasione da parte del primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, per verificare lo stato attuale del fiume, viste anche le tante polemiche degli ultimi giorni che ci sono state da parte di cittadini riguardo la folta e rigoyosa vegetazione che insiste nel fiume Testene. Sindaco Coppola, oggi lei è presente presso il fiume Testene per spiegare ai cittadini qual è la situazione attuale. Ovviamente insieme a lei c'è anche Gerardo Scotti che è il presidente dell'Associazione Genesi dell'Ambiente che da più di un anno si prende cura e riqualifica questa zona importante per la città di Agropoli. Anche su questo ci sono state diverse polemiche in merito insomma la vegetazione che è cresciuta all'interno del fiume Testene. Possiamo spiegare e placare insomma gli animi dei cittadini riguardo questa situazione? Noi cercheremo di spiegare, poi i cittadini dovranno fare loro scelte nel seguire una linea di condutta. Noi parliamo di difesa dell'ambiente e poi una realtà come il fiume Testene lo vogliamo distruggere. Che cosa intendo dire? È chiaro che se noi immaginiamo che il nostro fiume deve essere, l'ho ripetuto tante volte, un'acqua pulita come una piscina non ci troviamo e non ci possiamo mai intendere. Perché? Perché un'acqua pulita come una piscina senza vegetazione sarebbe un ruscello morto. Noi su questo concetto ci batteremo, noi difendiamo l'ambiente e vogliamo che il nostro fiume sia vivo. È chiaro che oggi nel fiume c'è una vegetazione rigogliosa e a occhi non esperti può sembrare un fiume sporco. Invece noi diciamo che è un fiume vivo. Nel nostro progetto che vogliamo costruire insieme a Gerardo Scotti e tutti i volontari e le associazioni che vorranno partecipare a questo progetto che abbiamo chiamato Genesi è proprio quello naturalmente di riorganizzare il fiume. Nel senso che è chiaro che stiamo partendo oggi, è chiaro che anche la vegetazione può essere gestita senza fargli del male, anche organizzando otticamente anche un aspetto carino del fiume, che noi ci vogliamo arrivare. Ma non possiamo oggi immaginare di scendere con un mezzo cingolato e distruggere tutta questa vegetazione perché morendo la vegetazione morirebbero le migliaia di forme di vita che oggi ci sono nel fiume che rende il nostro fiume vivo. Quindi oltre a quelle più note, tanti bambini e tante persone si regano qui per vivere un momento di tranquillità, qui le nostre paperelle che sono a tutti quanti più visibili, non ci sono solo queste nel fiume, ci sono tantissimi altri animali che vivono grazie alla disponibilità di questa vegetazione così bella e così ricogliosa. Quindi quello che voglio dire è questo, non è che mi preoccupo oggi di una critica perché dietro a questa critica in realtà chi critica e che non ha immaginato forse non sa, per questo stiamo spiegando cosa c'è dietro. C'è la volontà di ricostruire un parco all'interno del nostro fiume, un parco dove vogliamo vedere vivere la vegetazione, vogliamo vedere vivere forme di vita che avevamo dimenticato. La Lontra per esempio è un grande successo di Gerardo Scotti e dei suoi collaboratori perché non c'era più sul fiume, non viveva più e oggi ce l'abbiamo nuovamente. Vuol dire che hanno creato le condizioni in poco tempo per dare un scenario diverso del nostro ambiente. Oggi quindi siamo qui per fare difesa dell'ambiente e difendiamo e difenderemo il nostro fiume. Sindaco, la preoccupazione più grande dei cittadini è quella che possa magari venire una pioggia abbondante e a causa di questa rigogliosa vegetazione presente nel fiume possa straripare e quindi creare delle problematiche. Possiamo sfatare questo mito? Sì, è chiaro che i tecnici lo sanno naturalmente meglio dei cittadini e quindi lo raccontiamo anche ai cittadini. Perché possa esserci realmente una esondazione del fiume? Il fiume deve essere in qualche modo bloccato, ma non è questa piccola vegetazione o le canne che sono in grado di bloccare un fiume in piena. È chiaro che in passato è capitato, il fiume era ostruito con pietre enormi, con tronchi molto grandi che non ci sono oggi. Oggi abbiamo una piccola vegetazione che non darebbe nessun fastidio al fiume stesso. Ma noi non abbiamo detto che non vogliamo potare la vegetazione per rendere anche più vivibile il nostro fiume. e va gestito, nel senso che va fatto al momento giusto. Se noi fossimo scesi con un mezzo nel fiume, in un momento sbagliato, dove magari c'era una grande ovulazione delle forme di vite che sono qui, in un momento sbagliato avremmo creato un danno al fiume stesso. Noi vogliamo venire e scendere con un mezzo più piccolo nel fiume, lavorarci, ma nel momento giusto, quando non danneggiamo il resto dell'ambiente. Quindi noi abbiamo intenzione comunque, tra virgolette, di pulire questo fiume, ma di pulire senza ucciderlo.